Tutto pronto, partiti cavalli del premio Le Marmore. Parte un po' così assalto, tant'è che Brigante Sabino inizialmente partito male, si è ripreso subito e ha preso la testa della competizione portandosi al comando. In seconda posizione troviamo la giuba celeste con il cap bianco di assalto. In terza posizione quella della femmina Shiny Tap con il cap blu e le maniche blu e arancio. In quarta posizione si è sistemato il grigio Mai Westwood che lascia in coda l'altro imbattuto al debutto Midnight Season. Con i cavalli che vanno a affrontare la prima parte della curva, posizioni che si sono assestate con una lunga fila indiana sfilacciata. Cinque cavalli in circa otto lunghezze con Brigante Sabino sempre a cadenzare l'andatura. Tre lunghezze troviamo la femmina Shiny Tap in terza assalto che al suo interno Mai Westwood che ha guadagnato qualcosina. Poi Midnight Season in coda che si è messo anche a tirare visto che il ritmo nella parte centrale del gruppo non è esaltante. Brigante Sabino invece sta facendo il suo ritmo piuttosto incessante con l'andatura che da regolare è diventata un po' più di regolare. Quando i cavalli sono entrati in dirittura d'arrivo, Brigante Sabino che lancia la volata, Mai Westwood che prova a ricucire il gap, assalto dal centro della pista. Shiny Tap è ancora Midnight Season con le intersezioni delle piste superate in questo ordine. Brigante Sabino è ancora in vantaggio, Mai Westwood si è gettato all'inseguimento e ha recuperato qualcosa. Quando mancano 400 metri da percorre, assalto al centro della pista insieme allo stesso Midnight Season mentre Shiny Tap ha perso qualcosa in questa frazione. Con Brigante Sabino ancora in vantaggio lungo la corda, Mai Westwood che si lancia all'inseguimento. Quando mancano 200 metri da percorre, si è acceso il match. Brigante Sabino con un moto un po' un divago, va un po' di qua e un po' di là. Ma è comunque davanti ancora Brigante Sabino che mantiene l'imbattibilità in due uscite. A secondo posto Mai Westwood e per il terzo Midnight Season. Va in archivio così anche il premio Le Marmore con Brigante Sabino che ha mantenuto l'imbattibilità. Stiamo rivedendo le fasi conclusive con Tore Sulas che mette la frusta a destra. Brigante Sabino si sposta pericolosamente verso il centro della pista ma viene subito indotto con una correzione verso lo steccato. Nessun dubbio sulla sua vittoria che non è mai stata in discussione. Buono il secondo posto di Mai Westwood, terzo Midnight Season. Quindi i tre che avevano vinto all'esordio sono arrivati in questo ordine. 2-4-3. Doppietta per Tore Sulas. Il training è quello di Alduino e Stefano Botti. I colori sono quelli del signor Mario Sansoni. La quota era di 2,52. È tutto per Le Marmore. L'appuntamento adesso per questi è alla Guido Berardelli.